buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è mercoledì 17 luglio 2024 vediamo subito le notizie del giorno passando attraverso l'almanaco per vedere qual è il santo che si festeggia oggi è un santo antico un santo che visse nel quarto secolo sotto l'imperatore arcadio onorio era un santo erano i primi primi tempi del cristianesimo cristianesimo liberalizzato ma anche lui condusse pur avendo la possibilità di vivere una vita agiata condusse una vita da povero diamo un'occhiata veramente a chi è questo santo lo vediamo qui con un volto un po emaciato tipo Giovanni Battista per la vita appunto che aveva condotto di ricca famiglia diede tutto quello che aveva ai poveri e si mise a fare il mendicante in tarda età tornò alla casa paterna ma senza farsi riconoscere visse da povero in un sottoscale finché sentendosi avvicinare la morte scrisse la sua vera identità in un foglio che fu ritrovato poi quando Alessio morì dai parenti i quali lo riconobbero appunto come il figliolo che si era perso e di cui non si era avuta più notizia era un uomo che aveva dato tutto per gli altri tutto se stesso per gli altri e allora diamo un'occhiata con questa figura edificante invece alle previsioni del tempo per vedere come sarà la giornata di oggi ecco la grafica e vediamo come l'anticiclone ancora persiste l'anticiclone africano nel nostro territorio a garanzia di un tempo stabile su tutta la regione Marche farà caldo anche nella giornata di oggi le temperature saliranno fino a 35 gradi mentre nella notte si sono fermate a 24 i venti respireranno nella nella costa da nord da nord nord est mentre nell'interno da ovest sud ovest il sole è sorto alle 5 e 39 e tramonterà alle 20 e 47 e allora apriamo i giornali vediamo subito il resto del carlino questa mattina l'apertura è dedicata ad una iniziativa di solidarietà che verrà organizzata domenica prossima in collaborazione tra il rotary club di fano e il circolo velico il circolo velico del lido è una delle istituzioni veliche marinare più vecchie più antiche della città con questa iniziativa il rotary preseduto quest'anno da michele brocchini inizia i suoi service la vela che unisce questo il titolo dell'iniziativa ed è una veleggiata una veleggiata che viene organizzata domenica con un grande spettacolo nell'arco della spiaggia del lido a favore dell'anfas che gestisce il centro itaca il centro itaca è un centro istituzionale più affermato per quanto riguarda l'assistenza ai disabili soprattutto la riabilitazione di questi attraverso l'ipoterapia ci sono poi tante altre attività che danno un aiuto alle famiglie dal lunedì al venerdì il centro è aperto ma è aperto anche a tutta tutta la città che lì può venire può fare un picnic può soggiornare in un angolo molto verde della città insomma in un angolo tranquillo di pace è il vento della solidarietà veramente che unisce questa volta tramite la vela e quindi una bella iniziativa poi sono due giorni non è solo domenica perché poi sabato ci sarà un convegno per quanto riguarda la sicurezza in mare con un relatore che è importante perché è il capo di un'associazione proprio che ha questo preciso obiettivo quello della sicurezza in mare un'associazione che è nata dalla tragedia del Parsifal il Parsifal era un'imbarcazione riminese che alcuni anni fa fece naufragio causando purtroppo la morte di sei dei nove uomini dell'equipaggio e quindi da allora la sicurezza in mare è aumentata molto per nuove prescrizioni un'altra iniziativa invece riguarda l'assunzione di alcuni disabili disabilità e lavoro lo vediamo qui locali al mare più inclusivi e sono stati ingaggiati tre ragazzi grazie al progetto bagno di sole sono stati svolti dei tirocini anche nei confronti dei dipendenti e parte da tre spiagge collocate tra Fano e Marotta il progetto bagni di sole che vede unite le associazioni AGFI l'associazione genitori figli con integrazione l'ONFALOS autismo e famiglie autismo senza frontiere e confartigianato tutte queste forze per dare una possibilità di rendersi attivi di lavorare appunto alcuni disabili e farlo e farlo al mare è proprio un'iniziativa di stagione quindi locali al mare più inclusivi i tineri se parliamo sempre di vacanze parliamo di turismo è la stagione adatta e il resto del Carlino parla di questa iniziativa che è stata presentata due giorni fa dal presidente dell'associazione albergatori Luciano Cecchini tineri se ormai un'iniziativa consolidata che consente ai turisti ma non solo ai turisti anche ai fanesi di compiere delle escursioni dell'entroterra il binomio costa-mare-entroterra è uno dei binomi più riusciti, più efficaci per attirare gente nel nostro territorio perché le ricchezze dell'entroterra accostate alla bellezza del nostro mare ai servizi soprattutto messi a disposizione dalle concessioni balneari rende ancora più attrattiva la vacanza dunque torna il progetto Valli a scoprire che lo scorso anno coinvolse mille visitatori e addirittura in questo progetto una parte rilevante è l'enogastronomia perché i turisti che vengono portati con un pulmino a visitare i castelli dell'entroterra a visitare le aziende agricole del nostro territorio poi hanno l'opportunità anche di assaggiare le specialità gastronomiche tipiche delle nostre località e sappiamo quanto queste sono buone quando si assaggia per esempio la cacciotta di Urbino le visciole del nostro territorio il prosciutto il vino e tutto il resto che noi conosciamo molto molto bene allora vediamo le altre notizie qui di spalla abbiamo una notizia di cronaca trappola di sabbia a Fosso Signore lunedì l'ultimo incidente i residenti segnalano l'assenza di manutenzione che cosa accade a Fosso Signore accade che il vento trascina la sabbia a margine della statale e chi poi passa con la moto viene frenato da questi mucchi di sabbia e qualcuno appunto cade l'altro pomeriggio è toccato ad un ragazzino di 18 anni appena compiuti cadere dallo scooter rimasto impantanato in quel mare di sabbia che disarciona dalla sella insomma è una situazione molto molto pericolosa passiamo a Colli al Metauro in modo particolare passiamo a Serungarina dove è mancata l'acqua mancando l'acqua in questi giorni di grande caldo insomma è un disservizio notevole e c'è anche un rimpallo di responsabilità per quanto è avvenuto non è stato un guasto ma è la carenza d'acqua la carenza d'acqua del Metauro siamo in periodo di siccità che ha causato questo blackout ed è l'assessore Bagnesi di Colli al Metauro che si discolpa io non è che non mi sono interessato per ripristinare il servizio anzi per cinque volte ho telefonato a Marche Multiservizi e il problema è stato quello appunto legato alla carenza d'acqua non a un guasto la minore portata del condotto e l'aumento dei consumi hanno dichiarato dall'azienda ha mandato in crisi il serbatoio principale di Tavernelle in prossimità del fiume che è andato sotto un certo livello e non è più riuscito a pompare l'acqua nei serbatoi in alto che forniscono i piccoli borghi ecco questo che è accaduto è accaduto il livello dell'acqua del Metauro le pompe non sono riuscite a prelevare l'acqua per portarle poi al distributore un'iniziativa così molto molto curiosa ma ovviamente interessante è quello che la battaglia del Metauro riprodotta a fumetti da un noto disegnatore del nostro territorio Michele Petrucci verrà evidenziata con dei pannelli accogli al Metauro frutto del progetto territori spiegati segni, testimonianze e identità dei luoghi ebbene un turista che passa dalle nostre parti vede che qui è accaduta la battaglia del Metauro noi conosciamo benissimo la battaglia del Metauro sappiamo di Asdrubale sappiamo dell'esercito romano che è riuscito a fermare questi cartaginesi che stavano per unirsi ad Annibale che era in Puglia e se si fosse veramente riunito questo esercito così grande così poderoso Roma sarebbe stata veramente in pericolo ma probabilmente quelli che abitano in altre regioni non conoscono i luoghi e passando vedono appunto il territorio dove è avvenuto questo fatto importante della nostra storia ceriamo la pagina passiamo ad Urbino c'è una bella notizia Santa Chiara il bastione tornerà sicuro sono stati avviati i lavori di consolidamento che necessitano al bastione di Santa Chiara Urbino un'azione attesa da tempo che vede un investimento di 800 mila euro il primo stralcio si concentra sui giardini e quindi questo è importante c'erano delle fessure sul bastione che potevano fare pensare al peggio interventi anche sul teatro romano c'è anche il progetto di ripristino dei giardini che si aggancia a quello del recupero del teatro romano e alla sistemazione di via delle mura un importo complessivo 800 mila euro per il bastione ma tutto questo costerà 2 milioni di euro al comune di Urbino e poi a fondo pagina abbiamo il professore Oscar May docente di archeologia dell'università di Urbino che valuta l'identificazione la natura dei reperti che sono venuti alla luce a Santo Stefano di Gaifa dove era in atto un progetto l'esecuzione di un progetto per un insediamento industriale ebbene secondo il professor May i reperti venuti alla luce apparterebbero a delle fornaci romane già scoperte alcuni anni fa cinque fornaci che facevano le tegole facevano insomma i mattoni e tutto quello che serviva allora per le costruzioni edili dell'epoca romana e appunto questi cocci che sono venuti alla luce ne vediamo qui alcuni sono pertinenti secondo il professore a queste fornaci peccato che queste fornaci una volta una volta scoperte non vengono rese visibili la stessa cosa è accaduta a Fano poco lontano da Tombaccia anche qui fornaci romani scoperte per un certo periodo sono state rese visibili anzi doveva essere collegato a quest'area piccolare archeologica con il museo di San Costanzo dove avrebbero dovuto essere resi visibili i reperti in realtà poi tutto è caduto nel dimenticatoio e di queste fornaci si è perso perfino il ricordo il festival Urbino Musica Antica è sempre più internazionale presentata la 56esima edizione Alessandro Quarta è il direttore artistico veniamo qui da generazioni ha dichiarato una struttura importante invece per Urbino ma per tutto l'entroterra è quella della Eli superficie per il pronto soccorso sappiamo come certe località dell'entroterra non hanno un ospedale vicino e quindi la rapidità di un pronto soccorso quando magari capita un malessere improvviso di grave natura come un infarto un ictus eccetera giungere prestissimo in un ospedale vuol dire salvare una vita quindi un Eli superficie dove può atterrare l'elicottero magari anche l'Eliambulanza è fondamentale per avere un servizio efficiente per l'assistenza sanitaria grigliate abusive nei boschi moto senza targa sui monti dal furlo al Catria si elevano tante tante proteste per un modo scorretto di utilizzare l'ambiente ebbene tutti gli esempi segnalati nell'ultimo weekend destano non poca preoccupazione dalla presa d'assalto dei fiumi cagliesi alle moto senza targa che scorazzano sui sentieri del Catria e del Nerone anche le grigliate di carne consumate sul greto del Candigliano la vegetazione è pronta a prendere fuoco alla prima scintilla ebbene un gruppo di escursionisti che faceva una passeggiata ambientale appunto su queste località vedendo una comitiva che cucinava sul greto del fiume con il pericolo di incendi ha detto guardate che è pericoloso farlo ebbene per tutta risposta hanno ricevuto degli insulti e la cosa insomma non è certo non solo non ha detto scusate non lo facciamo abbiamo sbagliato è vero ma hanno reagito in maniera bellitaria e questo non va affatto bene il gruppo comunque ha segnalato tutto alla forestale vedremo se saranno presi dei provvedimenti questo per quanto riguarda il resto del calino ma prima di chiudere la pagina di questo giornale diamo un'occhiata anche la pagina pesarese dove vediamo una notizia di cronaca anzi di giudiziaria perché viene rievocato un fatto accaduto alcuni anni fa è accaduto nel no alcuni anni fa recentemente 16 ottobre 2023 in questa giornata un 47enne stava andando al lavoro alla circonvallazione di Urbino ebbene che cosa è accaduto è accaduto che una persona che era stata appena redarguita perché insomma non si comportava bene sulla strada ha reagito in una maniera eclatante si è fermato ha preso un martello ha cominciato veramente a dare martellate sulla schiena alla sua vittima causando delle ferite piuttosto piuttosto preoccupanti e poi ovviamente è stato arrestato martellatore la pena aggredì un papà condannato a 5 anni per tentato omicidio tutto nato da una banale lite su una strada di Ferminiano la parte lesa è stata quella di Matteo Bastianelli non cercava vendetta ora voglio guardare avanti la mia unica gioia è aver portato a casa la pelle perché veramente ha rischiato tantissimo l'accusa aveva chiesto una condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione per Simone Babbini che appunto è il martellatore che si trova tuttora in carcere a Villa Fastigi una reazione in consulta piena di rabbia non si capisce perché per aver detto guarda vai pochino più piano questo deve reagire magari cercando addirittura di uccidere quello che l'aveva redarguito mi sembra una reazione abnorme per quanto accaduto ed ora parliamo della siccità parliamo della siccità perché è un problema da risolvere si parla da tanti anni di realizzare degli invasi dei laghetti che possono contenere l'acqua da utilizzarsi in caso appunto di penuria d'acqua in modo particolare nel fiume Tauro da cui si attinge acqua per dare da bere a tutti i fanesi ma anche ai pesaresi quindi pensate quanto questo bacino idrico sia importante per il nostro territorio la morsa della siccità fa sempre più male serve un invaso ma la regione latita il presidente dell'ATO che è l'autorità d'ambito Marco Ciccolini dice ancora non ha un piano degli acquedotti e si riferisce alla regione e senza di quello per ora resta solo il Burano l'unica fonte questa bolla d'acqua del Burano che molti vogliono preservare invece quando c'è la necessità occorre attingere acqua che è un'acqua buonissima un'acqua purissima anche da questa fonte e questo è per quanto riguarda il resto del Carlino ora apriamo il Corriere Adriatico vediamo subito la pagina di Fano e vediamo un articolo che riguarda i liceali che frequentano il liceo classico Nolfi a Polloni il prossimo anno anche la sede centrale delle Nolfi a Polloni quella di via Tommassoni non sarà più agibile e i ragazzi dovranno trovare una nuova sede per continuare l'attività didattica l'amministrazione comunale si sta già attivando per trovare una soluzione alternativa l'ex seminario potrebbe essere la soluzione per alcune classi una decina di classi ma non basta perché le classi che cercano una nuova sede sono 22 e allora il nuovo sindaco Luca Serfilippi insieme al presidente della provincia Giuseppe Paolini hanno fatto dei sopralluoghi per trovare altre sedi si sono visionate grazie alla disponibilità del vescovo Andrea Andreozzi anche il convento di San Paterniano poi anche l'istituto delle pie Venerini l'istituto delle Zavarise il Don Orione però insomma ancora non si è trovata una sede adatta e si è ispezionata anche la caserma Paolini perché la casermetta Varotti quella che è dietro del monumento dei caduti con qualche piccolo aggiustamento ma piccolo non tanto perché poi il progetto costerebbe di adattamento costerebbe un milione di euro ebbene potrebbe ospitare appunto le classi residue dell'istituto Nord però i tempi sono strettissimi perché da qui al gennaio il progetto ancora non è compiuto i lavori sono da fare insomma il tempo è molto molto stretto solo se eventualmente la ditta che è incaricata di fare i lavori spostasse l'inizio di questo durante le vacanze di Pasqua forse forse ma non è detto questa soluzione della caserma Paolini potrebbe rendersi attuabile quindi al momento si cerca di trovare comunque una soluzione il preside Giombi ha detto ebbè qualsiasi soluzione poi che verrà trovata sarà valida meno quella della didattica a distanza perché quella la esclusiamo a priori e quindi i ragazzi avranno una presenza in aula con i loro professori per continuare appunto l'opera di insegnamento e poi qui vediamo in quest'altro articolo di apertura nella seconda pagina quanto sono i contributi che l'amministrazione comunale dà alle varie manifestazioni più importanti che si svolgono in questa intensa estate fanese vediamo subito ve lo dico in maniera molto molto sintetica a Boa Fano Jets by DC 120 mila euro la Fano dei Cesari 85 mila euro dati alla Proloco passaggi in cultura 100 mila euro probabilmente qualcosa bisognerà aumentare in questo ambito Brodetto Feste 60 mila euro i Malatesta Fano 20 mila euro 10 mila euro a Boomerang Rewind Festival l'iniziativa di On Stage che ha avuto tanto successo quest'anno in apertura della stagione a Lido poi abbiamo la stessa somma Laboratorio Armonico per i concerti d'organo e poi altre manifestazioni un pochino di minore di minore no di minore perché poi abbiamo anche l'incontro internazionale polifonico che è una delle manifestazioni storiche leader dell'estate culturale fanese il baese dei balocchi 9.500 euro a centrale fotografia 10 mila euro ai concerti d'organo all'incontro internazionale polifonico 9.500 a centrale fotografia 17 mila euro a Cinefortuna e poi ancora 65 mila euro per ospitare la trasmissione Sky Calcio Mercato l'originale quasi il doppio rispetto al 2023 quando il comune si è rimpegnato per 35 mila euro questo è quanto sborsa l'amministrazione comunale per sostenere queste manifestazioni che arricchiscono l'estate culturale fanese un progetto un progetto efficace che la Caritas sta portando avanti è il progetto CLUD sono tre sportelli per orientare soprattutto il lavoro nei confronti delle donne un'equipe di esperti sta realizzando il progetto della fondazione Caritas fondazione Caritas che ha aspirato al finanziamento del bando di crowdfunding 2023 bandito dalla fondazione Carifani Pergola Pergola abbiamo una opera cinematografica che rivela gli angoli più belli del nostro territorio e tra questi la cascata di Valrea e le colline del Valcesano ebbene è un'opera che è stata realizzata da Mangré il brand pergolese illustrato in un video che celebra le bellezze del territorio vediamo anche la pagina di Senigallia siamo in conclusione si parla di ordine pubblico ancora risse sul lungomare ed ecco la risposta sono state messe in servizio pattuglie in borghese e cinque agenti in più pattuglie anche in borghese sul lungomare per tutta l'estate e massima collaborazione con i servizi di vigilanza privata che stanno sorvegliando un po' le spiagge in concessione e quanto è emerso questa sinergia tra pubblico e privato in un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi in commissariato a chiederlo era stato lo stesso sindaco Olivetti dopo l'appello dei bagnini al comune per l'assalto in spiaggia da parte di ragazzi che hanno fatto un po' da matti insomma sono stati quelli che hanno compiuto atti di vandalismo e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.